27esima rassegna cinematografica cinema di qualità al multisala cinema nuovo lioni per informazioni 08 27 42 49 5 347 18 77 146 www.cinemanuovo.it sì eccoci qui con il match winner il grande protagonista del match partiamo però davide da quella standing ovation di tutto il partenio lombardi penso sia stato il momento più bello dopo questo lunghissimo calvario no sicuro sicuro fa fa piacere fa molto piacere la riconoscente comunque della gente qui in casa e è capitato tutto tutto a fagiola i tre punti con una mia doppietta credo che oggi non possiamo chiedere di più c'è una provincia intera che in questo momento sta gioiendo per la vittoria ma soprattutto per questa tua doppietta anzi qualche tifoso da casa si chiedeva chissà dove poteva arrivare questo avellino con con gavazzi in passato però c'è da guardare soprattutto al presente al futuro adesso si è passato sappiamo sappiamo com'è andato adesso sono qua sono felice di dare una mano comunque e fa piacere che comunque succedano queste giornate ecco dobbiamo dobbiamo pensare al futuro e subito alla prossima settimana e prossimi giorni che ci abbiamo partite importanti davide è stata una vittoria importantissima per la classifica anche in virtù degli altri risultati c'era da sbloccarsi al qui al partenio lombardi in quello che era uno scontro o salvezza ci siete riusciti nonostante di fronte c'era un novara che era davvero ben messo in campo quest'oggi sì no sicuramente non dava dava pochi punti di riferimento sia sia dietro che davanti infatti abbiamo avuto dei momenti di difficoltà però credo che che di carattere di voglia si è riusciti a comunque portare a casa questa partita ha funzionato l'esperimento di walter novellino quello di inserire galazzi in quello che lui definisce ruolo di sottopunta tu come ti vedi in questo ruolo no ma sicuramente il mister sapeva che con le mie caratteristiche posso dare una mano ecco poi io dico che mi sto trovando bene e spero di continuare così anche perché questo potrebbe davvero essere il modulo ideale per esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori attualmente il roso in questo vellino sì no sicuramente il mister ha sempre giocato con gli esterni e noi sugli esterni siamo fortissimi sia sia da una parte che dall'altra e a me fa piacere dare una mano lì in mezzo al campo ecco poi ci saranno ci saranno partite più più difficili però sicuramente il nostro potenziale dobbiamo cercare sempre di di esprimerlo con la con la testa e col carattere come oggi è stata la gara dei grandi gol dei grandi gesti tecnici tu quest'oggi addirittura tre perché oltre ai due gol anche il palo qual è stato quello più difficile secondo te? no beh credo che il secondo arrivava da un po' in alto quindi ho pensato a colpirla bene e tenerla bassa ecco credo che quello sia stato il più difficile ecco Davide lo sai in questi momenti conosci molto bene la piazza bianco verde ci si esalta quando si vince si deprime invece quando quando si perde dove può arrivare l'Avellino quest'anno? l'obiettivo salvezza ovviamente è quello primario soprattutto andando a guardare la classifica ma c'è secondo te la possibilità di poter rambire a qualcosina in più? no ma è una bugia perché eravamo due punti dai play out adesso siamo a quattro martedì andiamo a Empoli quindi non posso dirti niente posso solo dirti che questo è un mese delicato il prossimo che viene dobbiamo essere consapevoli di essere sul pezzo perché poi i punti contano il doppio in questo periodo perché poi più vanno avanti il mese più diventa difficile come hai vissuto ovviamente questo periodo davvero traumatico la rottura del legamento un ritardo purtroppo a ritornare in campo abbiamo detto 16 mesi di stop hai ritrovato il gol proprio contro il Novara perché l'ultimo gol risaliva alla sfida però persa in Piemonte contro il Novara per 4 a 1 no è brutto, vivi brutti, momenti difficili perché comunque non riesci a fare quello che facevi prima più che io la gente che mi è stata attorno bisogna ringraziare perché sicuramente quando non giochi quando non ti alleni sei nervoso e sicuramente non è al massimo starmi di fianco quindi sicuramente devo ringraziare loro e poi il resto viene da sé mi terrai presente soprattutto per quello che sarà il futuro io ti faccio questa domanda da giornalista perché se è scadenza di contratto in questo momento penso che la priorità della società sia quella di prolungare il contratto con Davide Cavazzi no ma non lo so, non lo so, sì sono in scadenza, hanno fatto i tre anni, stanno finendo vedremo dai pensiamo a far bene, pensiamo a fare giornate come queste poi si vedrà che trasferta sarà quella di Empoli? Sicuramente freddissime ne parlavamo anche con mister in bimbo, giocare presumibilmente su un campo ghiacciato con una temperatura che oscillerà tra i meno sei e i meno sette, penso sia davvero traumatico per un calciatore no sì sicuramente sarà una partita difficile anche fuori dal freddo sicuramente per chi affrontiamo, poi si vedrà sicuramente dovremo essere con la testa concentrati perché se no si fa brutte figure Empoli, però noi comunque siamo consapevoli delle nostre qualità e cercheremo di esprimere se riusciremo Ti passo il collega D'Avenia dallo studio Ciao Davide, ben ritrovato, solo per salutarti e farti sicuramente un forte in bocca al lupo perché finalmente l'Avellino ha riabbracciato un talento, un giocatore come ti senti soprattutto nel... molto spesso si è detto il vero acquisto dell'Avellino sarà Davide Gavazzi, effettivamente anche la luce di quello che ti è visto quest'oggi è così No niente, sono contento, ecco l'ho detto prima, sono... sono contento di dare una mano di mano a questa squadra a questi ragazzi che sicuramente è un grande gruppo, al mister e dobbiamo continuare così ecco, è iniziato da poco il girone di ritorno e dovremo dimostrare di essere all'altezza su tutti i campi